È organizzato da RCS Sport, è inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e si svolgerà sulle stesse strade del Giro d'Italia, utilizzando esclusivamente biciclette a pedalata assistita. Partirà mercoledì alle 11.30 da Piazza dell'Unificazione Amarotta, la decima tappa del Giro E, che si concluderà dopo 101 km nel Comune di Rimini. L'evento ciclo turistico è stato presentato nei giorni scorsi nella sala consigliare di Mondolfo dal sindaco Nicola Barbieri. È una grande opportunità di visibilità a livello nazionale per Mondolfo e Marotta ed è un evento importante che unisce mobilità sostenibile, turismo e sport, che sono tutti i temi che abbiamo affrontato in questi anni come amministrazione comunale per renderla sempre, la nostra città sempre più accogliente, per migliorarla sempre di più e quindi siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a portare la partenza del Giro E. I ciclisti percorreranno il nuovo lungomare dove da poco è stata realizzata la ciclovia adreatica, ma nello stesso giorno passerà a Marotta anche la tappa del Giro d'Italia Porto Sant'Elpidio-Rimini. Per l'occasione rimarranno chiuse le scuole dell'infanzia, elementari e medie dell'Istituto Comprensivo FAA di Bruno. È annullato il mercato di Viale Carducci e la viabilità potrà subire rallentamenti, come lungo la Statale 16 che verrà chiusa al traffico dalle ore 11 alle 15 circa. Invece sul lungomare da Via Parini fino al confine con Ponte Sasso la chiusura potrebbe scattare già alle 8.30. In questi anni la nostra amministrazione ha cercato sempre di organizzare eventi sportivi, di unirli al turismo proprio per creare questo connubio tra turismo e sport. Per non dimenticare abbiamo organizzato il mondial di beach soccer, abbiamo organizzato il torneo di disabili di hockey che ha portato tante squadre da tutta Italia e adesso andiamo a organizzare questa e-bike experience e in poche parole questo giro di bici elettriche che partirà dal nostro comune. Ad esprimere soddisfazione anche Alberto Paccapelo del Conimarche, le associazioni del territorio e l'assessore al turismo Davide Caporaletti. È un altro evento importante per noi, sicuramente uno dei più importanti per la stagione, per una stagione che come ho detto non vuole assolutamente finire. Siamo assolutamente nel clima del Giro E, ovviamente del Giro d'Italia appena iniziato. Anche a Fanno la Statale rimarrà chiusa nello stesso orario. Le scuole dell'infanzia e quelle a tempo pieno resteranno regolarmente aperte, mentre le elementari e le medie che hanno diretta ricaduta sulla viabilità interdetta saranno chiuse, ad esclusione dell'Istituto Comprensivo Nuti e della Direzione Didattica Sant'Orso. Invece per gli istituti superiori che sono di competenza della provincia, la Polizia Locale ha informato i dirigenti che a loro volta dovranno avvisare le famiglie, essendo tutti a ridosso della Statale fatta eccezione per la Scuola d'Arte a San Lazzaro, è presumibile che restino chiusi o facciano orario ridotto.